Il riscaldamento, l'illuminazione lo vediamo come istituzioni, ma lo vediamo anche in un riscontro delle persone che ci chiedono e che hanno bisogno di arrivare a fine mese e devono anche adesso far fronte a queste bollette. Le prime bollette con i rincari sono già arrivate e ad accorgersene sono inevitabilmente i sindaci, già destinatari di richieste di aiuto e di supporto. A Istrana si sta predisponendo una misura ad hoc. Come abbiamo già fatto degli interventi in pandemia stiamo ponendo particolare attenzione attraverso anche i servizi sociali per andare incontro anche con sostegni in attesa poi di capire anche noi cosa arriverà da parte del governo che ci permetta poi di andare a trasferire sul territorio queste risorse. Si tratta quindi di capire se l'esecutivo Draghi consentirà di rigirare i bonus per la pandemia e relativi capitoli di bilancio al caro bollette. In attesa di chiarezza la sindaca di Istrana anticipa i tempi. Cerchiamo di fare al meglio perché sentiamo tanto la responsabilità verso le nostre comunità di offrire tutto l'appoggio possibile. Comuni che già stanno rivedendo i loro bilanci sul fronte delle spese correnti in relazione agli edifici comunali, municipi, scuole, impianti così a Montebelluna. Purtroppo siamo oltre il 30%, è una situazione di difficoltà, è una situazione che dobbiamo cercare di risolvere ma su questo chiediamo anche l'intervento del governo e appunto dello Stato per venire incontro a tutte le amministrazioni locali che sono in difficoltà e che dovranno purtroppo tagliare servizi essenziali. Speriamo ovviamente di non arrivare a questo, a tutto ciò e cerchiamo appunto di trovare una soluzione di condivisione anche con il governo.